Lavoriamo insieme per far crescere la famiglia e la natalità. Si può usufruire dell'esenzione totale del ticket sanitario dal terzo figlio in poi. Un intervento dedicato alle famiglie numerose con almeno tre figli a carico. Per ottenere l'esenzione è sufficiente compilare il modulo di autocertificazione al momento del pagamento del ticket. Un'opportunità immediata e concreta perché se cresce la famiglia, cresce la società e cresce l'economia. Informati! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS